Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di Podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. Cari bambini, abbiamo già considerato questo primo comandamento, è il comandamento principale della legge di Dio. Abbiamo già considerato come tutta la legge di Cristo, tutta la legge di Dio, dipende dalla carità. E la carità poi dipende da due precetti, uno dei quali riguarda l'amore di Dio e l'altro riguarda l'amore del prossimo. Vedete come è semplice la dottrina di nostro Signore Gesù Cristo. Fa dipendere tutto dall'amore, dalla carità. Perché? Perché Deus caritas est. Perché Dio è carità. Dio è amore. E nostro Signore vuole che noi siamo come Lui. Carità, amore. E l'amore abbraccia da una parte Dio e d'altra parte abbraccia il prossimo. Perciò la carità dipende da due precetti, da due comandamenti, uno dei quali riguarda l'amore di Dio e l'altro riguarda l'amore del prossimo. Allora, la legge consegnata a Mosè, nella legge, questa legge che sono i dieci comandamenti, questa legge fu iscritta su due tavole di pietra. I primi tre comandamenti scritti sulla prima tavola riguardano l'amore del prossimo. E tutta la legge si è fondata su questi due precetti. Allora, il primo comandamento che riguarda l'amore di Dio esclude soprattutto l'idolatria. Perciò dice, non avrai altri dei. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei. E per comprenderlo bisogna sapere che gli antichi trasgredivano questo precetto in molti modi. Alcuni prestavano culto ai demoni. E il Salmo dice che tutti gli dei delle nazioni sono demoni. Infatti, nel passato ogni nazione aveva il proprio Dio. Questo è orrendo. E tra tutti i peccati è il più grave, il peccato di idolatria, di rendere a falsi dei il culto di adorazione. Anche ora, molti trasgrediscono questo precetto. Sono tutti coloro che praticano la divinazione e i sortileggi. Secondo Santo Agostino, queste cose non si possono fare se non contraendo un patto con il diavolo. E qui vorrei, cari bambini, richiamare la vostra attenzione per una serie di libri, anche di film, fatto, per esempio, Harry Potter. Avete forse letto qualche libro o guardato qualche film di Harry Potter. Uno può pensare, ah, è una storia innocente, una storia per i bambini. In realtà, i libri e i film di Harry Potter è una iniziazione alla magia, all'occultismo. Suscita nel cuore dei bambini questa curiosità per questo mondo dei fantasmi, della magia, degli spiriti. Quindi, attenzione, non è un film da guardare, neanche un libro da leggere. Noi dobbiamo coltivare le cose belle, le cose sane. Bene, ci sono anche tanti film sulla televisione del horror, film di violenza. Questi film del horror e di violenza, solo anche una qualche iniziazione, ha questo aspetto della magia, dell'occultismo, perché il demonio è il padre dell'omicidio, della violenza. Perciò, se un bambino comincia ad abituarsi a queste cose brutte nella sua anima, non potrà nascere l'amore alla virtù, alle cose belle. Ah, ma è solo un film di un po' di, un po' forte, un po' di violenza. Questo fa molto danno all'anima, ok? Quindi, la nostra anima è molto sensibile. La nostra anima è come una tabula rasa, cioè la nostra anima, tutto quello che vede, che ascolta, tutto quello che abbiamo visto, ascoltato, si imprime nella nostra anima, come i colori su una tela. Allora, bisogna fare attenzione. Poi, ritornando agli antichi, molte prestavano culto anche ai corpi celesti, cioè agli astri, e oggi ci sono quelli che seguono l'oroscopo. Anche questo è un modo di idolatria, perché è un modo di credere al movimento degli astri, piuttosto che alla divina providenza. Poi c'erano gli antichi che adoravano gli elementi inferiore, come il fuoco, il vento, l'aria. Nell'errore di questi cadono tutti coloro che usano male delle cose inferiori, amandoli eccessivamente, come è il caso dell'avarizia. Oggi c'è gente che fa del palone, del calcio, il suo Dio, fa dello sport, un idolo, e è capace di saltare. L'ha messa la domenica per andare a fare una corsa, andare a correre dietro un palone. Questo è idolatria. C'è l'idolatria del corpo, che si dà più importanza all'aspetto fisico, che all'anima. Questo anche è idolatria, è adorare se stesso, che passa ore davanti allo specchio a guardarsi, che poi si ha un problema, va subito dal dottore per aggiustare il naso, la bocca, l'orecchio, i capelli. Questo è una forma di idolatria, è una schiavitù di cose inferiore, perché il corpo prima o poi marcirà, prima o poi lasceremo il nostro corpo nel cimitero come castigo dei peccati. Allora, cari bambini, chiediamo sempre alla Vergine Maria la grazia di amare Dio nostro Signore al di sopra di ogni cosa. Gli antichi facevano anche un altro errore, che loro adoravano gli antenati o se stessi. E su questo parleremo un attimo la prossima volta. Sielo dato, Gesù Cristo. Oggi c'è RadioRomaLibera.org la prima emittente di Podcast Cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito